Abbiamo lanciato 500 biciclette nel territorio di Torino. Finalmente a Torino arriva un nuovo mezzo, le biciclette pelate assistite per noi è veramente importante per far avvicinare tutti i cittadini al mondo della bicicletta. Abbiamo anche lanciato il primo abbonamento in Italia mensile che si chiama Elviz Unlimited, 29,99 euro al mese. Siamo qui oggi per ringraziare Elviz per aver creduto nella nostra città e anche nella mobilità su cui noi stiamo investendo e in cui stiamo credendo fortemente. Elviz, da quanto mi risulta, sarà con noi in partnership come città di Torino per sperimentare i massi e quindi la possibilità di utilizzare un'altra forma di mobilità interconnessa.